quella storia, non hanno avuto tutte una risposta. Per cui Agron, e non è la prima volta, ha scritto un romanzo qualche anno fa su una vittima di stalking, e non solo di stalking, si chiama Senza Voce, ha deciso di trasformare una storia da tribunale in un romanzo, che ha la forza di entrare nelle camere di tutti, di finire sul comodino e di farci riflettere. Lo scopo di questa serata, credo anche quello, sia l'occasione per riflettere su un tema che, vi ripeto, pervade la vita di tutti quanti. Caro Agron, come nasce la storia del caso Filde? Perché ti viene voglia di raccontare in un romanzo quello che hai vissuto per vari anni, perché la giustizia italiana non è cortissima, fra il primo e il terzo grado passano un po' di anni, perché ti è venuto voglia di ritornare su quelle carte e di trasformare in un romanzo. Grazie Diego, buonasera innanzitutto al Comune, al Sindaco, a Maurizio Martini per la sua dedizione, al Waxinet, all'assessore e a te Diego, che sei un compagno del mio percorso professionale ormai da oltre 15 anni. L'idea di questo libro nasce dal, direi più da un'esigenza personale. Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere la famiglia certamente di Francesca Benetti, ho conosciuto anche Francesca Benetti in un'altra occasione, ma soprattutto ho conosciuto la madre di Francesca Benetti. Marisa Chiellini, voi immagino molti di voi la conoscevano e con lei si è instaurato subito un rapporto di sintonia, forse lei sperava che il suo avvocato facesse quello che in realtà non è stato possibile fare, quindi trovare la figlia, però ecco questo rapporto umano che si è instaurato durante un periodo di sofferenza, di attesa drammatica di questa donna, mi ha colpito e in qualche modo mi è rimasto in qualche modo l'obbligo di ricordarla. Tant'è vero che dedico a lei quasi l'ultimo capitolo di questo libro e l'esperienza che, ovvero la narrazione che riporta in quel libro, in quelle pagine, forse Alessandro Benetti oggi qua presente ricorderà che in realtà, quando leggerà il libro, non so se lo ha fatto ancora, ma ricorderà che in realtà percorre una storia pressoché identica e quindi quello che successe appunto al tempo a Marisa Chiellini. Quindi la mia è un'esigenza, ma era anche un po' se vogliamo una promessa che mi ero fatto per rendere in qualche modo visibile, leggibile e mantenere comunque in qualche modo al di fuori delle carte processuali la memoria di questa piccola grande donna di Toscana che mi è rimasto impresso e quindi mi sono innamorato di lei, della sua personalità, della sua generosità, della sua compostezza. Questo mi ha colpito molto, nonostante il trama che l'aveva coinvolta, nonostante poi le sue condizioni di salute che poi purtroppo l'hanno accompagnata fino all'ultimo con questa attesa di conoscere il destino della figlia, ha mantenuto sempre una dignità che davvero meritava di essere ricordata. E quindi questo libro non è solo dedicato ovviamente alla storia in sé, ma in qualche modo volevo rendere su una carta diversa e quindi dare un aspetto umano a quello che era questa vicenda per me e in qualche modo auspico, lo sia anche per i familiari di Francesca e di Maria Zachelini, per cui questo è diciamo così lo scopo di questa scrittura. Francesca. Io volevo ricordare un particolare di questa storia, vi immagino che non tutti se anche avete presente cosa stiamo parlando la conosciate nel dettaglio. Francesca scompare nel nulla, viene arrestato dopo pochi giorni il custode del suo podere in Maremma con l'accusa di averla uccisa. Il corpo di Francesca non è mai stato trovato, nonostante ricerche lunghissime, insomma, usando anche tecniche moderne e antiche. E ricordo che durante queste ricerche la mamma di Francesca, Marisa, che sperava che la figlia non fosse morta, sperava di poterla riabbracciare, a un certo punto si rende conto che probabilmente sarà molto difficile, però vorrebbe avere un luogo per lo meno dove andarla a piangere, dove portare dei fiori. Marisa, ricordo, scrisse una lettera che anch'io da giornalista ricordo bene, la scrisse al presunto assassino che poi viene stato condannato in via definitiva dicendo dimmi dove posso andare a portare un fiore per mia figlia, perché esprime un concetto straordinario Marisa in quella lettera, di grande dignità e grande decoro. La premorienza, cioè quando un figlio muore prima della mamma o del papà, è una circostanza terribile, terrificante nella vita di qualunque genitore. Il dramma della famiglia Benetti è un dramma pesantissimo come potete immaginare o come l'avete vissuto se eravate vicini a loro, o se li conoscevate. Però drammi così pesanti io credo che siano molto frequenti anche per fatti meno gravi. E volevo chiedere appunto a Tiziana Decao, che con il suo assessorato si occupa anche di questi drammi, quanto pesanti sono i fatti di cronaca all'interno delle famiglie, come vengono vissuti? Certo, buonasera a tutti intanto. Ecco, noi quando abbiamo casi di persone che subiscono violenza, chiaramente cercano una risposta e si rivolgono ai nostri sportelli. In particolare si rivolgono allo sportello del consultorio, dove cercano spesso un aiuto che spesso viene dato dall'assistente sociale, dalla psicologa di turno. In genere nella maggior parte dei casi si riesce a dare una risposta. Quando la cosa è troppo grave, chiaramente in quel caso scatta, adesso anche la nuova legge e il codice rosso, entrano in campo forze dell'ordine, abbiamo strutture di sostegno in cui poi la vittima viene allontanata, soprattutto se ci sono anche dei minori, quindi abbiamo delle realtà di protezione. Noi per dare una risposta anche a queste problematiche che purtroppo sono in aumento. Lunedì prossimo, proprio in occasione di questa giornata, faremo un incontro, una serata in cui daremo dati locali più precisi, faremo una serata più statistica, diciamo meno letteraria. Abbiamo quest'anno come amministrazione aderito allo sportello antiviolenza di Alzignano, uno sportello che ci aiuta in queste circostanze, che fa riferimento, che si appoggia a una struttura di protezione e che è un ramo del centro antiviolenza di Vicenza. Io volevo leggervi alcuni dati, tanto per avere un'idea di come lavorano e di quali possono essere i numeri. Per quanto riguarda il centro di antiviolenza di Vicenza quest'anno, e non è ancora finito l'anno, hanno già avuto preso in carica 200 casi. Chiaramente non parliamo solo, non sempre necessariamente di casi gravi, comunque di casi di violenza. Può essere la violenza più semplice, violenza più pesante, lo stalking, fino ad arrivare poi all'allontanamento in casi di situazioni gravi. L'anno scorso sono stati 170, quindi già questo vi dà un po' il senso di come il fenomeno stia aumentando. Di questi casi a Vicenza 100 sono stati chiusi, risolti e ne sono aperti ancora 99. Di queste 99 donne che sono seguite dal centro antiviolenza di Vicenza, 74 hanno figli minori e 56 sono italiane. Perché si rivolgono le donne? Qual è la motivazione principale per cui una figura, una donna si rivolge al centro antiviolenza? Maltrattamento dal partner. 84 donne subiscono maltrattamenti dal partner. Qualcuno si rivolge per avere delle consulenze, qualcuno per maltrattamenti familiari, ma questi sono numeri molto ridotti, 3 per stalking. E gli autori di queste violenze chi sono? Cognuge o partner convivente, 77 persone, quindi subiscono questo, oppure anche ex coniuge o partner convivente, 12 e poi altri casi minori. I casi di violenza fisica, in questo numero che vi ho detto sono 73. Se ci riferiamo poi nello specifico al centro antiviolenza di Arzignano, quest'anno sono state prese in carico 35 donne, di cui 26 per maltrattamenti da partner, 3 per violenza sessuale e 1 per stalking. Sono dati che ci dicono un po' com'è la situazione. Un aspetto da sfatare è che questa violenza non riguarda le fasce più deboli. Uno dice ma sì, succede magari nelle famiglie più in difficoltà, nelle famiglie in cui ci sono problematiche di tipo culturale o di tipo economico. Non è assolutamente così. La violenza non guarda in faccia posizione sociale, ricchezza, cultura, quant'altro. È veramente un fenomeno trasversale. Se pensiamo solo che, dai dati che daremo anche lunedì prossimo, sul nostro territorio qua tra Valdagno e Arzignano abbiamo, se non ricordo male e me lo dico, quest'anno sono stati considerati come 100 casi di violenza domestica tra Valdagno e Arzignano, in media 8 accessi ogni mese nei pronto soccorso nostro. Abbiamo fatto venerdì scorso, sempre in questa sala, un bellissimo incontro organizzato dai medici di base con due magistrati che seguono questa problematica. C'erano anche le forze dell'ordine presenti e mi hanno detto, ci hanno riferito che in quella settimana tre codici rossi. Quindi un fenomeno veramente che fa pensare. E io penso che bisogna affrontare questo fenomeno, bisogna dare delle risposte. E sicuramente è un fenomeno però culturale. Parlavamo anche prima, qua c'è tanta gente stasera, forse manca, ne ho visto qualcuno ma pochi, forse manca una fascia. I ragazzi mancano i giovani perché è un fenomeno questo, tipicamente è un fenomeno culturale che dovrebbe essere affrontato proprio con la scuola, con la formazione, con la cultura. Perché è un elemento, un fenomeno che si risolve partendo dalla base, cioè assicurando il rispetto. Prima giustamente Diego diceva non è solo violenza sessuale o violenza domestica, è violenza in genere. Quindi mancanza di rispetto e rispetto dovuto a qualsiasi persona. Sì, io vi racconto un caso di cui mi sono occupato oggi, che troverete sul giornale di domani, che mi ha fatto un po' sorridere pensando alla serata di stasera. Cioè la vicenda di un ragazzo che è innamorato perso e la sua ragazza che l'ha mollato e per due, tre, e quattro mesi, le lascia sul cruscotto e la macchina dei mazzi di fiori, le scatole di cioccolatini, le scrive i biglietti, circonda la macchina con un'escrizione che ho scritto a Tamara ti amo, la tempesta di messaggini, ma non sono messaggini pesanti, sono messaggini a voglia di vederti, mi piace, mi manchi. Lei non ne può più, perché anche quella è una forma di violenza. Dopo averli detto un sacco di volte la nostra storia è finita, qui basta, non lasciarmi più fiori, non fare più nulla, e lei alla fine sporge denuncia, lui stamattina ha patteggiato in tribunale, perché è un reato anche quello. Certo, è un reato che fa sorridere rispetto a casi di violenza molto più grave. Però quella ragazza, prima che succedesse qualcosa di peggio, ha preferito andare ad i casami dei carabinieri e raccontarlo, e ha fatto sicuramente bene. La cosa che vorrei chiedere ad Agro, ma la lorna del tuo romanzo, tu parti dalla fine, cioè quando purtroppo il dramma è già avvenuto. Lei era circondata di uomini, si scoprirà in corso del romanzo che erano anche un po' di rompiscatole. Se si fosse rivolta prima, o se si fosse andata ai carabinieri, perché il romanzo è tutto in Inghilterra, quindi dovrebbe andare a scotteniardo, sarebbe cambiato qualcosa? Il romanzo si struttura in modo diverso, dove lo stalking c'entra, perché comunque ci sono i pedinamenti anche in questo caso, non vi svelo troppo su questo aspetto, certamente sarebbe cambiato qualcosa, sì, perché comunque avrebbe in qualche modo acceso in lorna quello che erano i segnali di pericolo intorno a lei, lei sarebbe fidata meno di questi uomini, probabilmente avrebbe compreso di più quello che poteva essere una trappola, quando poi ha iniziato a comprendere, lui invece l'assassino ha comunque pensato ad un'altra strategia. Però anche qua certamente è stato in qualche modo cercato di narrare, sebbene ovviamente in forma assolutamente narrativa, questo è un giallo, è un thriller, quindi è un qualsiasi, un romanzo di qualsiasi tipo, per cui se dimenticassimo oggi che si tratta di Francesca Benetti, sarebbe un romanzo qualunque, quindi è ovvio che è stato anche narrato in forma leggera, perché possa in qualche modo anche non essere poi pesante per il lettore, che capisco, come diceva Diego Occhi, prima è un romanzo che uno potrebbe averlo vicino a comodino, quindi non vorrebbe avere qualcosa di così cupo. Però ovviamente cerca di fare il pletere anche su questo fronte e la reazione delle persone, soprattutto alle prime battute, rappresenta un forte deterente per quello che poi può accadere in un secondo momento. I primi segnali sono importanti, non spesso riescono ad essere accolti per tempo anche dalle forze dell'ordine, anche dai avvocati, anche dai magistrati, ma siamo persone tutti quanti che non sempre si riesce a fare la cosa giusta. Quello che è importante però le persone vicine alla vittima, la persona che ha il problema, possono attivarsi e possono in qualche modo fare quella parte che invece la vittima non riesce a fare, proprio perché è la vittima. Se posso dico già subito un anettodo, poi magari ne parleremo se tu avrai voglia, ma forse qualcuno sa che un altro caso, appunto quello dell'altro libro di cui parlava Diego prima, mi ha ispirato poi ad una proposta della modifica legge sullo stalking che oggi si trova ancora in attesa di Commissione Giustizia in Parlamento, che dovrà, se mai avremo un Parlamento duraturo, dovrà prima o poi essere preso in mano. E in un convegno per l'ordine avvocati di Rovigo mi è capitato che una collega nella platea, quindi quello era un convegno tra avvocati, insistesse molto nel ritenere che quella norma, quindi consentire le persone vicine alla vittima di intervenire in aiuto alla vittima e quindi in qualche modo appoggiare questa forma, questa modifica della legge sullo stalking rappresentasse in realtà un pregiudizio alla autodeterminazione per la donna. Questa collega sosteneva con molta forza, con molta insistenza, che quella potesse essere una mancanza di rispetto, quindi un ulteriore approccio da parte dell'uomo, in questo caso uomo io, avvocato colpevole, che avevo proposto una modifica di questa norma proprio per consentire l'applicazione in automatico, detto banalmente, ovvero la procedibilità d'ufficio di questa norma. E questa collega ha insistito, ha insistito, io l'ho fatta insistere, ha parlato per dieci minuti con forza, con forza, con forza, del perché quella norma non fosse giusta, al che alla fine ho detto proprio per questo motivo, perché lei ha parlato per dieci minuti con forza che in realtà una vittima di stalking non ce l'ha. E quindi questa proposta di legge non è fatta per persone come lei, che hanno la forza e trovano l'autodeterminazione nel presentare il problema che hanno di persona, quindi rivolgersi ai carabinieri, rivolgersi all'avvocato, rivolgersi al magistrato. Questa proposta di legge è fatta proprio per quelle persone che non hanno il coraggio e non hanno la forza, non hanno la capacità o perché sono proprio in qualche modo talmente sottomesse all'uomo che, o alla donna, se fosse anche viceversa, che non sono in grado di reagire. Ovviamente qua si parla poi anche di maltrattamento in famiglia, quindi è tutta una tematica che è molto vasta e molto intima, perché chi ci tocca dentro le mura di casa ci tocca in quell'ambito in cui noi non riusciremo mai a dimostrare quello che è successo, se non siamo in grado di filmare o di registrare con il telefonino, perché certamente non abbiamo mica le telecamere in casa, per filmarci quello che succede. Per cui è sempre difficile testimoniare, dimostrare, avere il coraggio, anche il pudore, se vogliamo. Io ho conosciuto persone, giornalisti, anche di fama nazionale, che hanno subito maltrattamenti proprio per il disagio, per l'imbarazzo di raccontarlo, proprio perché erano delle figure note alle cronache, come personaggi pubblici, e proprio perché quella testimoniare, quindi la debolezza di trovarsi vittima di maltrattamenti in famiglia, per loro rappresentava una debolezza e quindi un pregiudizio alla loro figura. Per cui non è solo la paura, il timore, ma è anche quell'atto di noi che è il pudore, e quindi vorremmo tanto tenere per noi, non vorremmo mai apparire deboli, non vorremmo mai raccontare quella parte che comunque non ci piace. In questo caso anche subire violenza non ci piace. Giustamente tu prima hai detto, quasi quasi mi sono pentito ad averlo chiesto al tempo, in quell'altra occasione, chi mai avesse subito violenza o molestia, semplicemente una molestia. Lì tutti hanno alzato la mano, io qua non lo farò, certamente, non l'hai fatto tu, però capirei che io per primo magari non l'alcerei la mano, proprio perché mi trovo qua e se dovessi farlo magari farei così, perché mi vergogno e come dire loterei per me. Questa però, questa situazione diventa poi un terreno fertile in realtà per colui che ho con lei, che comunque ne giova di questo poi per reiterare anche, e se voi di questo poi ne potremo parlare, anche inconsapevolmente la sua condotta che può essere molesta o comunque irrispettosa. Perché ricordiamo che per me, per quanto mi riguarda, spesso capita che già lo stalker, parlando adesso di stalking, può essere lui stesso la prima vitamina di stalking, perché non si rende conto, non ha la consapevolezza che ciò che sta per compiere piano piano sta crescendo fino al punto che poi diventerà incontrollabile. E su questo mi collego a quel fatto di cronaca che leggeremo domani, io comprerò il giornale di licenza per leggere ormai, perché proprio da questi gesti, bigliettini, o come dire, queste attenzioni che però vanno oltre a quella che è la libertà e l'accettazione da parte di chi dovrebbe in realtà beneficiare, e questi poi piano piano comportano quei comportamenti che giustamente devono essere censurati. Sì, tra l'altro questo tipo di reati, questo tipo di vicende giudiziarie, quello chiedo anche a Tiziano, hanno imposto un cambio di mentalità giuridica, non solo nella vita di tutti i giorni. Perché? Perché le norme italiane, non voglio essere troppo tecniche, cerco di semplificare molto, cercano di dare, di mettersi nella testa dell'imputato, di quello che combina qualcosa. Tanto è vero che ci sono alcune persone che vengono assolte e si dice perché manca l'elemento psicologico e il reato. Cioè io combino qualcosa, non so che è un reato, mi assolvono. Ad esempio, se uno arriva dal Burundi e vede una pianta di banane davanti a casa mia, mi porta via le banane perché ha fame, in Burundi non è un reato, non possiamo condannarlo. Faccio un esempio davvero molto stupido. Non è esattamente così, cerco di semplificare. Questo tipo di reati, dal 2009 in avanti, con l'introduzione alla legge sullo Stolkin, hanno cambiato leggermente la prospettiva. Perché sostanzialmente non è importante solo l'elemento psicologico di chi combina qualcosa, ma è importante anche l'elemento psicologico di chi lo subisce. Se io tutte le mattine lascio dei cioccolatini o dei mazzi di fiori sulla macchina di Agron o sulla macchina di Tiziana, probabilmente loro si mangiano i cioccolatini, si mettono i fiori nel vaso e sono ben felici. E invece nel caso dei ragazzi di cui vi parlavo prima non era così. Quindi è l'atteggiamento di chi subisce una certa cosa che è importante per il legislatore e anche per il giudice. Cioè lo stesso fatto, lasciai i cioccolatini o i fiori, per qualcuno va bene, per qualcun altro no. Questo qualcuno o qualcun altro sono le vittime. Ed è un cambio di mentalità davvero importante che è stato introdotto in questi reati. Volevo chiedere appunto a Tiziana quanto conta poi l'esperienza delle vittime, il racconto delle vittime nel lavoro di un assessore che coordina uffici dedicati come il tuo. Questa è un'esperienza quotidiana. Io dico per fortuna che ho poi sempre a fianco vari dei psicologi o psicologhe o assistenti sociali che danno una mano. No, volevo ricollegarmi a questo discorso dello stalking. E' un fenomeno alquanto antipatico, pesante. Perché è sempre qualcuno che preme, che ti fa, che ti tormenta, che è lì ed è sempre presente. Non per niente, se noi pensiamo proprio al significato della parola stalking, dall'inglese to stalk, quando io faccio la posta a qualcuno, quindi lo fisso e seguo costantemente quello che lui fa. Può essere un atto, il mio è un atto d'amore effettivamente, che però, come diceva Diego, non viene preso come tale e dà fastidio. Quello che forse è un aspetto negativo, chiedo anche l'avvocato che è molto più bravo di me in queste cose, chiaramente. Quello che è, quando noi abbiamo donne che vengono a lamentarsi e dire, ma questa persona mi sta stalkizzando, questa persona mi sta perseguitando. E dopo va bene, lì entra anche un discorso, un ambito legale che noi non possiamo affrontare. Però fino a che punto la donna stalkizzata, la figura, la vittima stalkizzata, riesce ad andare oltre? Nel senso che il reato di stalking è perseguibile solo su querela. E spesso la donna si ferma. Ho letto proprio, e parlavamo anche prima, un recente caso eseguito da Agro, di una ragazza, una ragazza trentenne, denunciato, fatto querela perché l'ex fidanzato continuava a questo atteggiamento e azione di stalking, però poi al momento di continuare nella serie o di andare avanti con il procedimento ha ritirato la querela. Ecco, e giustamente qua facciamo presente che Agro dal 2014 ha presentato un disegno di legge che però fermo purtroppo in Parlamento per far sì che il reato di stalking diventi perseguibile proprio d'ufficio. Altrimenti spesso, forse questa paura che abbiamo, questa riserva, questa vergognarsi di andare oltre, magari subito all'inizio la pesantezza della situazione ci spinge a sporgere querela, ma poi alla fine quando dobbiamo andare avanti in questo procedimento ci fermiamo e ritorniamo indietro. Qua io mi permetto anche, non so, magari qualcuno non sarà d'accordo con i miei modi di pensare, però forse anche da parte nostra c'è sempre un po' questo ruolo della croce rossina, nel senso che ma dai riproviamo, ma dai vediamo se, ma è stato un momento. Ecco, bisogna anche stare attenti che la situazione poi non degeneri. e un altro modo forse per difendersi, che la donna, la parte offesa ha per difendersi dallo stalker è quello di chiedere un ammonimento al questore. Anche qua però, guardando e studiando un po' per quel poco di giuridico che io capisco, poi è sempre una discrezione del questore accettare questa richiesta di ammonimento. Mi permetto di intervenire qua. Il problema è che anche l'ammonimento richiede comunque l'intervento della vittima. Quindi, tornando al discorso iniziale, chi ha il coraggio di denunciare lo fa personalmente, con l'avvocato, comunque diventa parte attiva. L'ammonimento stesso è in realtà un'occasione in più, sia per lo stalker in questo caso, ma anche per lo Stato stesso di evitare eventualmente un procedimento, perché spesso delle denunce comportano poi l'intasamento nel casemma dei carabinieri, poi per gli avvocati che lavorano, poi per gli uffici della procura, del tribunale e così via. Quindi è giusto che ci sia, quindi anche un filtro di questo tipo spesso funziona, però ecco, c'è comunque un problema a monte, tornando all'argomento che affrontavi, sul coraggio, sulla forza che poi la vittima deve stessa poi attivarsi per sollecitare questore affinché richiami poi appunto lo stalker. Scusami, mi sono permesso. No, dicevo quindi è sempre... la legge aiuta fino a un certo punto. Ecco, mi sembra che lo stalking sia ancora un aspetto di questa forma di violenza in cui forse la legge deve entrare con più vigore, mi permetterei di dire. Perché finché lasciamo la denuncia dello stalking a scelta personale, penso che sarà difficile affrontare le situazioni che spesso poi noi vediamo, si rivolgono le persone che poi si rivolgono a noi però. Concretamente se non sei tu donna, poi tu parte offesa, convinta di proseguire in questo percorso di querela e quindi di soluzione del problema, noi servizi sociali o noi psicologi non possiamo più di tanto intervenire chiaramente. Forse vale la pena, Diego, qua proprio per rendere ancora più complessibile questo concetto che anche il delitto di maltrattamento in famiglia è un reato molto simile allo stalking perché comunque sono comportamenti sempre avversatori, solo che sono condotte che devono essere compiute all'interno di una relazione, all'interno delle mura domestiche. Invece quelle condotte poste all'esterno in un contesto diverso, ecco che poi le troviamo anche nel reato di stalking. Nel reato di quell'articolo 572 che proprio riguarda il maltrattamento in famiglia, eppure il legislatore ha previsto la procedibilità d'ufficio. Non serve la querella da parte di una donna, di un uomo, di un anziano, perché comunque maltrattamenti in famiglia non riguarda solo la donna. Oggi parliamo di stalking perché nel nostro immaginario l'uomo pedina la donna. I maltrattamenti in realtà è una cosa molto più complessa, molto più vasta, può essere un minore che subisce maltrattamenti dalla violenza assistita dei genitori o di adulti all'interno di un contesto domestico. Eppure rispondendo quindi a quelle persone che ritengono che la procedibilità d'ufficio rappresenta un pregiudizio per l'autodeterminazione, eppure il legislatore al tempo lo ha applicato proprio per maltrattamenti in famiglia, che è addirittura una norma dove uno direbbe beh non avrei via di fuga se denunciassi il mio partner o la mia partner o il mio padre o mia madre, qualunque persona ponga in essere queste condotte. Ebbene, ti raccontavo prima Tiziana, Diego lo conosce come caso, mi è capitato invece che un padre è venuto da me, una persona nota, benestante, eccetera, aveva un problema con la figlia perché la figlia non si decideva di denunciare o comunque in qualche modo di affrontarlo in modo fermo, insomma anche dal punto di vista legale, il proprio partner che in realtà l'aveva maltrattata seriamente, quindi prendeva i capelli sulle scale, anche in presenza del bambino che aveva 3-4 anni. E allora questa donna che da un anno ormai subiva, 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 non si decideva però di denunciare, non si decideva neanche in qualche modo di prendere la posizione di fermo e dire ok adesso non ci vediamo più perché l'altro comunque l'avvicinava e in qualche modo faceva leva sulla presenza del minore. E il padre mi dice avvocato sono disperato perché non so mai cosa fare, e ha detto beh, lei può denunciare per sua figlia. Come posso denunciare? Sì, perché il 572 a differenza dello stalking, quindi i reati, il reato di maltrattamenti in famiglia, è un reato perseguibile d'ufficio. E' molto importante, lo so che è un aspetto tecnico che magari a qualcuno può sfugire, diciamo così, la rilevanza, però è fondamentale perché quel padre poi abbiamo deciso di fare un esposto, perché non è più querela, perché non hai il diritto di querelare, però abbiamo fatto l'esposto con una denuncia alla Procura della Repubblica e la dottoressa Barbara Lamunari l'ha presa e c'è stato un procedimento penale e quel procedimento penale, nonostante la mancata, come dire, il mancato coraggio da parte della donna, col procedimento penale ha portato poi a un esito giudiziario, in processo. Questo è un esempio molto, molto limpido, molto chiaro di come in quelle occasioni, in quelle circostanze in cui la vittima, la persona che subisce un reato, non è in grado di intervenire, non significa che il reato non c'è. Ne parlavo qualche anno addietro ormai con luogotenente Ferrante, che tu conosci bene, che ormai è stato trasferito a Chioggia, che ha seguito tanti casi di cronaca importante come investigatore per la Procura e parlando con lui, proprio sulla proposta della legge sullo stock, diceva, ma per me, per quello che io vedo nella mia attività di carabiniere, per me tutti i reati che hanno una pena editale superiore ai tre anni, per me, destano un'allarme sociale. E quindi per me devono essere presi equipi d'ufficio. D'altronde pensate, l'articolo 186 del Codice della Strada, che non è altro che quel articolo così odiato da tutti, perché non ci fa bere un bicchiere in più. Nella vallata dell'Ano lo conosciamo benissimo. Bene. Non ci fa bere quel bicchiere in più perché si può fermare una pattuglia, possiamo fare un incidente, poi dopo scoprono che abbiamo bevuto qualcosa di più e non faccio ovviamente riferimenti all'assunzione di sostanze di altro tipo. Ma parliamo proprio di un bicchiere di vino. Bene, 186, eppure, anche se uno ha superato di quel poco che comunque supera quindi la soglia della punibilità penale, lo Stato mica aspetta che qualcuno faccia la denuncia. Lì basta la segnalazione del carabiniero o della polizia che l'ha fermato e ti perseguita. Fino alla condanna. Eppure, se vogliamo proprio bevele nella sostanza, mi pare che bere un goto di vino per quanto sia pericoloso, in assenza di incidenti e mi hanno fermato certamente un comportamento censurabile perché non sto dicendo che non è reato, ma è comunque meno grave rispetto a un reato come può essere un reato contro la persona. Quindi ci sono dei disvalori, se vogliamo, di distribuzione di quello che dovrebbe essere il carico che si deve fare lo Stato per perseguire alla radice e non lasciare all'individuo la libertà di decidere se è un bene o un male. perché una persona violenta è vero che io magari non lo denuncio, non produco il referto medico e non lo faccio e comunque quella persona di cui va ben tanto l'ho lasciata e non ci vediamo più. Ma quella persona violenta poi fa la stessa cosa ad un altro. il caso Paredes che si può menzionare perché comunque è un caso ormai passato in giudicato questo signore che poi ha fatto tanti danni in realtà si è scoperto che anche in precedenza avesse commesso reati simili ovviamente meno gravi perché non è che le ha uccise tutte però per dire che reati contro la persona violenza sessuale o aver picchiato le altre compagne quello era già successo. Allora mi viene da chiedere se questa persona fosse stata fermata già prima per volontà dello Stato e non lasciare quindi nelle mani della vittima sempre il dovere di dover decidere e quando decidere probabilmente quella persona non avrebbe più potuto agire oppure avrebbe preso maggiore consapevolezza che quella condotta comporta anche a una conseguenza. Tanto per farvi un esempio e qua chiudo se no divento troppo lungo la violenza sessuale è un reato perseguibile a querela di parte. Eppure vi sembra normale? Eppure lo Stato evidentemente ha la pensa molto più profondamente rispetto al sottoscritto sa delle cose che io ancora non so evidentemente ma lascia questo diritto questa possibilità alla donna o all'uomo che ha subito una violenza. Non parliamo adesso di casi di perseguibilità d'ufficio il minore, la donna in gravedanza questi altri aspetti ma parliamo di una persona normale che ha subito una violenza. E anche quello quindi è un caso al quale si chiede sempre alla vittima che ha subito la violenza di dover sporgere denuncia. Allora io dico ma scusate ma perché io non devo denunciare la violenza che ha subito mia sorella o mio fratello? Perché non devo denunciarlo? Perché devo lasciare a lui o a lei di fare denuncia? il legislatore oggi capisce e fa qualche passo in avanti perché il diritto della querela poi è stato estesa sì come dire questo tempo di meditare la cosa giusta da fare si allunga sempre di più per lasciare il tempo tipo lo stalking lasciare il tempo alla vittima di come dire di elaborare meglio e di convincersi di fare la cosa giusta. Però ecco che il legislatore non sempre riesce ad essere incisivo e probabilmente io perché vengo da una realtà provengo da una realtà dove in realtà era tutto incisivo perché ero stato totalitario un po' ibrido mi sento in questo e credo che delle volte per alcune cose per alcuni aspetti forse una mano più decisa da parte delle istituzioni consentirebbe forse anche un vivere un po' più consapevole da parte anche di coloro che in realtà se sanno che quello che compie non dipende poi solo dalla volontà della vittima ma sanno che se vengono a saperlo possono essere puniti probabilmente qualcosa in più lo pensano. Faccio sempre il paragone e qua mi fermo davvero della rapina rapina in banca se noi adesso vedessimo che qualcuno sta facendo rapina in banca e chiamiamo la polizia o 112 guarda che stanno facendo rapina loro intervengono subito mica dicono no guarda che devo aspettare la denuncia del direttore perché? Perché è un reato perseguibile d'ufficio quindi vedete come già cambiare qualcosa già quindi mettere in mano alle istituzioni può essere molto più incisivo e soprattutto e soprattutto se vogliamo anche più deterrente per la commissione di delitti perché comunque un rapinatore di certo sa che se un passante mi vede mentre sta commettendo una rapina potrebbe denunciarmi e quindi cerca di quella rapina di farlo di notte o di nascosto o a tende chiuse perché sa bene se qualcuno lo vede lo denuncia eppure se io do un schiaffo a una donna mezza la strada lo posso anche fare con l'arroganza di poterla fare perché tanto so che deve essere lei a denunciare il fatto questo è anche un elemento ulteriore che a mio avviso deve far riflettere il legislatore e quindi per quanto concerne il mio piccolo ho cercato di sensibilizzarlo con questa iniziativa che appunto si parla di Stockholm quindi bisogna essere un po' più duri quando serve e lasciare meno libertà a persone che comunque in quel momento non dispongono di questa libertà posso chiedere una cosa perché allora proprio mi domandavo come cittadina perché allora tu hai notato tutti c'è questa differenza se noi iniziamo con lo stalking che è la forma di violenza più diffusa ed è quella che poi spesso porta ad altre forme di conseguenze perché anche adesso la nuova legge questo codice rosso che sta tentando appunto di affrontare questo argomento di portare qualche risposta ancora non è riuscito ad uniformare queste forme di violenza perché anche nello stalking deve essere dimostrato mi sembra comunque che sono delle forme persecutorie ripetute e che creano uno stato di ansia profondo io dico vado a c'è questo che mi lascia i cioccolatini sulla macchina quello che è però devo provare che questo mi crea un profondo e duraturo stato di ansia quindi già questo è un modo per limitare la punibilità del reato hai ragione chi dimostra questo chi dimostra che il mio stato di ansia è duraturo è profondo è sempre un modo da una parte voglio provare ad intervenire dall'altra però metto sempre la persona offesa in una condizione in cui difficilmente riesce a dimostrare forse anche per questo che poi spesso ci si ferma e si torna indietro se posso provo a rispondere io aggiungendo un piccolo elemento Tiziana che è questo è giusto che la sensibilità della vittima abbia un peso è determinante insomma questo è davvero giusto però non dobbiamo far sì che la sensibilità della vittima sia preponderante cioè servono degli elementi oggettivi che facciano sì che perché se io ti accarezzo e tu ti senti violata per una carezza davanti a 100 persone non può essere che solo la tua sensibilità di sentirti violata che questo costituisca un reato serve un qualche elemento oggettivo che è dato appunto al fatto che i comportamenti siano ripetuti che tu l'abbia detto anche davanti a altre persone che lo sanno che ti dà fastidio se ti donano la carezza eccetera eccetera insomma serve questo per cui ha ragione Agron quando chiede che il reato di stalking non sia più procedibile solo a quereda però è anche vero che ci sono tutta una serie di comportamenti che possono essere maleducati che possono essere scortesi che possono essere inopportuni ma che non sono reati è per questo secondo me che serve un discrimine certo è fondamentale che ci sia una certa sensibilità da parte della vittima rispetto a un determinato comportamento che ti ripeto se do a te i cioccolatini tu sei ben contenta e te li mangi quella ragazza no se mi permetti Diego leggo quattro righe del testo di atti persecutori questo è quello che prevede oggi il codice con l'intervento del legislatore con il codice rosso quindi c'è un incremento di quello che diciamo così l'assetto sanzionatorio però la forma rimane sempre la stessa l'articolo 612 bis recita così salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi chiunque e su questo giustamente diceva prima Tiziane chiunque può compiere questo reato con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo e qua è la chiave in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'inquennità propria o di un prossimo congiunto lo so che può sembrare tecnico forse per qualcuno o per qualcun altro invece lo ha già letto e studiato più di me quello in modo è proprio quello che lega in realtà la condotta materiale con l'effetto passivo della condotta non è sufficiente quindi rispondendo alla tua domanda non è sufficiente oggi dimostrare che Tizio ha commesso ovvero ha posto in essere la sua condotta i cioccolatini i fiori e quant'altro oppure anche molesti anche adesso andando un po' più sul pesante magari anche delle offese magari anche 3600 messaggi in due mesi immaginate voi e però quelle condotte così come recita oggi la norma devono prevedere necessariamente altrettanta dimostrata una trasformazione dello stato d'animo della vittima quindi nell'elemento materiale del reato quindi che possiamo vedere il reato deve essere incluso dentro anche l'ansia la paura l'agitazione cambiamento delle abitudini di vita quindi l'esclatore non chiede solo in questo caso dimostrami che lui l'ha fatto e lo metto dentro no dice dimostrami che lui l'ha fatto e che tu lo hai subito in questo stato è una norma molto complessa tant'è che spesso in giudizio quando si arriva poi anche in dibattimento davanti a un giudice a dover dimostrare non è semplice per la vittima a dimostrare lo stato d'animo perché non è semplice non è sufficiente dire sì ho paura sì dimostrami cosa hai fatto allora eh ma tu però gli hai risposto gli hai detto no guarda così guarda che se lo fai ancora se lo fai ancora se lo fai ancora e questo è un atteggiamento però incompatibile con chi ha paura perché chi ha paura allora non dovrebbe più rispondere in questo modo il caso Paredes a Venezia davanti al corte d'assise di Venezia è stato modificato è stato tolto lo stalking nel capo di imputazione a Paredes proprio perché la vittima non aveva cambiato nelle motivazioni della sentenza l'utenza telefonica perché detto molto banalmente non è naturalmente la sentenza molto più argomentata ma uno dei motivi era questo il giudice di appello della corte d'assise di appello riteneva che poiché la vittima nonostante le reiterate condotte poste in essere dallo stalker non ha cambiato le abitudini di vita non ha cambiato il lavoro non ha cambiato il telefono quindi in qualche modo quei 3000 messaggi supponiamo era colpevole anche lei perché le riceveva perché se no poteva anche cambiare l'utenza e quindi sulla base di questi elementi il giudice ha ritenuto che non ci fosse quello stato d'annimo così accentuato da far configurare il reato dei stalker solo per precisare per far capire a chi ci ascolta questo paraedes aveva una relazione con una ragazza che poi l'ha lasciato lui l'ha convinta una sera a tornare con lei dopo averla appunto tormentata per un po' di tempo e quella sera l'ha uccisa il giudice di primo grado ne ha fatto anche di peggio il giudice di primo grado gli ha dato 30 anni di reclusione in secondo grado a Venezia 19 perché sono caduti alcuni reati tipo lo stalking questo per darvi l'idea della differenza proprio per la difficoltà poi ha preso altre condanne perché prima aveva attormentato anche la mamma della ragazza insomma ne ha fatti un po' però è un caso drammatico se non ricordo male del 2012 e volendo chiudere questo fatto di paretisi così non ne parliamo più di lui secondo me li stanno fischiando le orecchie ma si trova in un posto lontano in questo momento quel fatto accade così il 5 maggio del 2012 anzi il 4 maggio del 2012 la madre va in questura a denunciare a voler denunciare questo paretes per il reato di stalking commesso ai danni della figlia proprio perché la figlia minacciata dall'imputato a quell'uomo di uccidere la madre di portare via la figlia e quant'altro aveva paura di denunciarlo dice no per me lui è una persona pericolosa io non lo denuncio e la mamma dice ma denuncia la denuncia no ma non preoccuparti che noi ti proteggiamo andremo insieme e fuggeremo in America tu ricorderai no lei non voleva denunciare era talmente terrorizzata diceva no io lo conosco non posso denunciare perché mi fa fuori allora la madre dice va bene a sto punto vado io lei va in questura il 4 maggio 2012 e va in questura in questura sono persone molto qualificate sono un ufficio preposto proprio per le violenze contro le persone quindi capiscono bene sanno bene sanno quello che devono fare però dicono la signora signora non possiamo raccogliere la denuncia per Storkin perché la denuncia per Storkin il legislatore lo prevede in capo alla vittima convinca sua figlia è convincere sua figlia è facile convincere mia figlia non posso non ce la faccio è per questo che sono qua insomma la signora torna a casa ovviamente sconsolata ecco la mattina dopo il 5 maggio le 2 di notte lui fa quello che aveva promesso di fare e quindi di fatto la uccide questo è obiettivamente è il caso di scuola che poi mi ha portato a chiedere questa modifica della legge perché mi chiedo se la madre avesse avuto la possibilità di cambiare le carte in tavola quindi poter procedere nel microfono di quell'uomo probabilmente sarebbe successo lo stesso in un altro momento questo noi non potremmo saperlo ma certamente probabilmente avrebbe potuto interrompere quel nesso causale che era dal giorno prima al giorno dopo probabilmente l'intervento della forza dell'ordine avrebbe portato a un cambiamento di questo puzzle degli eventi e probabilmente quella ragazza oggi sarebbe viva la sua figlia avrebbe avuto ancora la madre e la madre della vittima avrebbe avuto ancora sua figlia quindi vedete come basta poco e può essere molto molto importante per le sorti poi delle persone noi abbiamo narrato finora dei casi drammatici di stalking volevo chiedere all'assessore se nella sua esperienza dice che è il reato che più è presente insomma nella vostra attività di tutelare le vittime con i servizi sociali ma avete anche tanti esempi di stalking che poi si trasformano in qualcosa di più grave ma io ricordo due casi più recenti che abbiamo di situazioni gravi che non abbiamo seguito inizialmente poi chiaramente quando arriva il momento più pesante di maltrattamenti più che di stalking maltrattamenti veri in famiglia che si sono risolti poi in un caso con l'allontanamento del marito e nell'altro caso invece con l'allontanamento della signora con un bambino e poi inserita in una comunità protetta quindi dopo non siamo noi proprio come quando arriviamo a situazioni di stalking pesante o di maltrattamenti in famiglia noi seguiamo il primo passo ma poi indirizziamo queste persone al consultorio quindi dove c'è le persone più preparate a seguire questi casi mi verrebbe da dire tornando sempre a questo discorso dello stalking una domanda banale ma forse se Francesca o Lorna avessero denunciato lo stalking forse qualcosa sarebbe cambiato perché io mi domando anche sempre qua il legislatore prevede anche il divieto di avvicinarsi alla casa della vittima oppure il divieto di frequentare i luoghi frequentati dalla vittima e anche addirittura dai congiunti della vittima o da persone che vivono che hanno relazioni sentimentali con la vittima però spesso sentiamo che anche tutti questi divieti vengono puntualmente poi non seguiti e poi si arriva sempre sempre tardi diciamo ma siamo sempre arrivati tardi quindi ritornando al discorso di prima lo stalking secondo me è proprio uno degli aspetti relativi alla violenza di genere o comunque violenza in genere anche poi volevo fare un'altra domanda ad Agro che non è ancora stato risolto o comunque affrontato in maniera più seria dalla nostra legislazione e qua spesso mi sconto quando parlo di questi argomenti di queste tematiche con qualcuno che mi dice ma si voi parlate sempre di violenza in parte avevi accenato anche tu prima di violenza alla donna alle donne mentre ci sono tanti uomini che subiscono forme di stalking addirittura mi dicevano forme di violenza sessuale e di questo però non se ne parla mai a me sembra una cosa non così diffusa però sento sempre più spesso queste affermazioni nella tua carriera nella tua esperienza ci sono adesso ovviamente non possiamo fare nomi perché ci sono alcuni processi in corso anche ma vi assicuro che ci sono delle stalker ecco chiamiamole così che sono in grado di destabilizzare sensibilmente l'equilibrio psicofisico delle proprie vittime proprio un po' per la folia un po' per la pazzia anche un po' per la consapevolezza che tanto nessuno fa niente è un reato che può essere commesso da chiunque come tu dicevi giustamente mi viene in mente invece che in quelle volte che io ho denunciato maltrattamenti ai danni di un uomo in casa e non dico la donna che prende a schiafi e picchia con la cinghia l'uomo perché questo magari non è proprio così qualche schiafo magari anche sì ma un uomo che una donna che invece insulta continuamente l'uomo non si è capace a fare questo non si è capace a portare i soldi quindi questo comportamento che va ad abbattere quella che è la dignità di una persona quindi la propria reputazione la propria persona anche questo è maltrattamento in famiglia eppure quando è stato denunciato è stato archiviato perché è stato ritenuto che non fosse provata la sussistenza del reato se fosse stato l'inverso di certo se posso dire una cattiveria probabilmente ci avrebbero piaciato un po' di più perché nel nostro immaginario ma anche nella statistica non c'è niente da fare cioè la statistica è questa se vogliamo 100 casi su 100 casi magari uno è l'inverso perché adesso è inutile raccontare che i casi sono identici o nella percentuale identica tra i sessi capita però che oggi proprio con anche con la crescita giustamente della autodeterminazione della donna del sesso femminile sono anche in grado di fare anche di peggio insomma per cui questo non è escluso se mi consenti una battuta Agron evidentemente il magistrato ha fatto un calcolo diciamo così di opportunità ha detto se mando a processo tutte le mogli che brontolano ci troviamo il tribunale strapieno insomma ecco per cui è meglio archiviare che l'unico caso che non c'è proprio c'è una cosa che volevo chiedere ad Agron ritornando a questo libro abbiamo parlato a lungo di vittime c'è una particolarità di questo romanzo ci sono alcuni capitoli in cui questo è un romanzo scritto in terza persona dal narratore omnisciente che conosce la storia che racconta quello che succede tranne in alcuni capitoli in cui riesci a far parlare la vittima cioè è lei che racconta come hai fatto? ma qua mi rialaccio un po' all'introduzione la prima domanda che mi hai fatto era l'unico modo per avvicinarmi di più a lei e a sua madre quindi cercare di raccontare un po' la sua la sua situazione in cui si sarebbe trovata in cui sia trovata e se vogliamo anche in fiction quello che potrebbe essere anche dopo la propria scomparsa è un esperimento che a me è piaciuto farlo anche con il primo libro tu sai lì è stato totalmente narrato l'intero testo è stato narrato in prima persona tant'è vero che mi ricordo quando l'editore ha letto il libro intanto pensava anche grazie al mio nome che è così comune in Italia e disse ma guardi lei signora ha fatto scrivendo la mail mi è piaciuto molto guardi guardi non sono una signora sono un signore ah scusi allora allora promosso lo prendo subito perché vuol dire che mi ha ingannato e anche in quell'occasione sono riuscito ho voluto scriverlo in prima persona tant'è vero che il testo si chiama senza voce proprio per questo per dare voce in qualche modo a lei e quindi non sono riuscito a staccarmi del tutto ecco se vogliamo da questa sorta di così forciatura interiore a medesimarmi quello che poteva essere l'orna e dove si trovava l'orna e comunque lasciare una porta aperta adesso senza svelarvi la fine del romanzo perché ricordiamoci che il romanzo si intitola il caso Field ed è un romanzo sebbene ispirato come tanti romanzi ispirati a storie vere qua ovviamente la natura di questo libro è di trattenimento oltre che poi di riflessione come noi oggi abbiamo fatto questa serie ne faremo altre occasioni in questo caso lasciare quindi una porta aperta al lettore di immaginare qualcos'altro e io non vi dico altro se no dopo non siete più curiosi quindi non è proprio un romanzo giallo c'è anche un po' di thriller in mezzo questa è pubblicità no no non comprate questo libro questo aspetto era piaciuto molto anche a me questo intervallare la descrizione delle indagini vere e proprie con la vittima la protagonista che interviene in prima persona e tu usi anche tra l'altro caratteri diversi proprio per distinguere le varie parti questo l'ho trovato un mezzo diciamo stilistico molto che prende molto questo non si io volevo approfittare abbiamo ancora un po' di minuti non tantissimi volevo fare una domanda a testa ai nostri due ospiti e poi lascio eventualmente anche la parola a voi se c'è qualche domanda da fare e volevo sfruttare questa occasione visto che c'è il sindaco mezzo addormentato in prima fila per dire a Tiziana povero no sto scherzando ovviamente ora sveglio e attivo visto che ce l'hai qua davanti a te cosa piacerebbe chiedere il sindaco meglio di quali strumenti tu avresti bisogno per fare ancora meglio il tuo lavoro per essere ancora più efficace nella tutela delle vite domanda da 100 milioni no esatto una variazione di bilancio o c'è qualcosa che avresti bisogno se vogliamo veramente questa domanda da 100 milioni nel senso che noi ci troviamo tutti i giorni a fare i conti con problematiche economiche e questo è scontato penso la disponibilità economica è sempre più ridotta e poi soprattutto adesso abbiamo un grosso problema di personale noi siamo sottodimensionati i nostri servizi dal consultorio all'età evolutiva tutela minori servizi sociali stessi e sono tutti servizi sottodimensionati io vi faccio un esempio molto qua abbiamo anche una preside di scuola superiore forse loro sono meno toccati io insegno le medie noi abbiamo i ragazzi disabili di solito facciamo i piani individualizzati per loro con la psicologa non abbiamo più psicologhe che vengono a scuola a facci a seguire i ragazzi con disabilità quindi siamo veramente in un momento di grande carenza di figure professionali perché dopo i soldi chiaramente il discorso economico c'è sempre stato ci sarà anche sempre di più e in qualche modo si tira da una parte si aggiunge dall'altra e se non arriva in qualche modo però se mi manca la figura principale di riferimento se ho un caso di violenza e non ho la psicologa che possa affrontarmi in caso di violenza non ho l'assistente sociale che possa seguirla qua io posso inventarmi cosa e soprattutto noi siamo sempre la persona non è che puoi dire beh vieni domani o ti do questo o ti do un pagliattivo no il problema va risolto quindi se il sindaco avesse la macchetta magica dovrebbe chiaramente risolvere prima di tutto questo problema questo problema che è dopo se arrivassero soldi chiaro che con i soldi di tutto e di più ma penso che poi è un problema diffuso perché noi stasera abbiamo citato i carabinieri la polizia i magistrati è un problema che hanno tutti questo ed è un problema effettivamente pesantissimo in determinati contesti insomma penso soprattutto a quella figura intermedia di queste vicende fra la vittima e poi il giudice che sono poliziotti e carabinieri specializzati in questo genere di reati insomma che sono davvero ormai pochissimi lo dico senza nessuna valenza politica insomma quota 100 ha lasciato vuote le caserme e non solo le caserme ma in questo caso le caserme perché giustamente sono tutti in pensione e per 10 che vanno in pensione prima ne assumevano uno adesso ne assumono due o tre insomma ma restano di vuoti di vuoti organi compazzischi ed è un problema oggettivo insomma loro possono fare il lavoro più bello del mondo però se poi c'è un imbuto in cui non c'è il carabiniere esperto che si riesce a occupare di un certo caso la povera signora che è stata accudita amorevolmente dai servizi del comune di Valdagno poi aspetta non è colpa di nessuno insomma poi aspetta invece volevo fare un'ultima domanda anche ad Agron che è una domanda diciamo così più umana questa metafora umana e professionale tu hai raccontato bene in questo tuo secondo lavoro di romanziere insomma questa vicenda terrificante l'avevi fatto anche nel tuo primo romanzo quello di raccontare una vicenda terrificante ma tu sostanzialmente passi la giornata a occuparti di vicende terrificanti come è la vita di un penalista nero e poi ci sono i penalisti che si occupano di evasione fiscale che si occupano di truffe tu ti occupi quasi sempre di storie terribili ma come è questa vita è una vita terribile diciamo che ti porti i problemi a casa questo sì è un po' mia moglie lo sa è impossibile per chi fa questo lavoro non con diligenza ma quantomeno con passione per chi sente quando ascolta un cliente o una cliente in ufficio in proprio studio la ascolta con attenzione non c'è mai un primo appuntamento di una vittima di una persona di maltrattamenti che viene in ufficio da me e che non stia lì almeno due ore tanto è vero che da fuori dello studio mi dicono ma se sei rimasto due ore in ufficio a parlare con questa signora sì perché devi ascoltare perché questa signora ha i suoi tempi anche di esporre le cose quindi è comunque un lavoro quello di colleghi e anche quello mio che si occupano quindi di penale nero giustamente diceva Diego è un lavoro che ti coinvolge molto emotivamente e spesso capita che ti alzi la notte magari anche per andare scusate a fare pepì e dopo torni a letto e però la testa va per conto proprio e tu dici dormi 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 no non dormi e quindi tu scendi giù poi ti fai qualcosa prendi però non vuoi svegliare la moglie e quindi alla fine sei costretto a stare dai che mi addormento mi addormento non mi addormento più alla fine arriva che alla sveglia lo spegni tu la sveglia perché sei più sveglio della sveglia e quindi qualche notata la passi in bianco la storia dei libri devo dire e questa è proprio la mia cura è un modo per elaborare un po' il mio lavoro quindi rendemelo un po' più leggero in qualche modo anche la storia di Lorna voglio parlare di Lorna Field ma in realtà la storia di Francesca Benetti alla quale mi sono ispirato era in qualche modo per romanzarla e quindi in qualche modo per elaborarla anch'io perché è vero che i familiari sono le vere diciamo così vittime dal punto di vista affettivo però vi assicuro che chi comunque lavora sopra penso a un maressale dei Carabinieri che ha seguito tutto il caso penso anche ai pubblici ministeri che come in questo caso di Grosseto sono stati due bravissimi che lo hanno seguito fino alla corte d'appello d'assise quindi sono venuti a Firenze a seguire a fare loro lì la loro requisitoria quindi l'hanno preso proprio a cuore Diego diceva prima che ci sono state delle ricerche massicce voi forse qualcuno di voi si ricorda parlo naturalmente di Francesca al tempo nel 2013 novembre c'erano 150 uomini che agivano contestualmente quindi pensate un esercito di persone con elicotteri con scusate non voglio essere molto pesante ma con cani con tutto quello che serviva a controllare centimetro per centimetro nei territori dove si sospettava potesse essere qualche traccia di Francesca quindi c'è stato un coinvolgimento da parte di istituzioni in questo caso che ha comportato un dispendio anche di risorse economiche enormi enormi però è giusto che questo venga fatto e da parte di un avvocato che queste risorse ovviamente non le ha ma confida che appunto le istituzioni le mettano a disposizione il suo coinvolgimento emotivo in qualche modo lo deve lavorare perché io ho più di mille clienti e capite bene mi riporto a casa e quindi quando mi riporto a casa io sono rovinato e quindi ho cercato di trovare un sistema ha funzionato con la prima volta con il caso di Ulissa in questo caso delle volte dico ma questo è quello che l'ho narrato io o è la storia vera delle volte dimentico qual è il dettaglio se è da una parte o dall'altra si vede che la cura funziona e così andrò avanti sono già work in progress insomma ci sono già delle altre cose scrivendo altre ormai non mi fermo più bene aspettiamo il prossimo aspettiamo il prossimo esatto stavo pensando io a quale fattaccio di quale fattaccio ti eri occupato insomma lo troveremo probabilmente a sorpresa c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda abbiamo trattato vari temi comprendo che una parte di questa trattazione sia stata tecnica e non immediatamente intellegibile non è facile capire però è facile capire che per entrare in profondità delle cose per avere delle risposte vere che abbiano un senso che non siano chiacchiere da bar bisogna entrare nel dettaglio perché altrimenti non riusciamo restiamo sempre in superficie e non riusciamo a capire bene perché ci sia un presunto assassino in libertà o piuttosto perché ci sia una vittima che aspetta tanto o piuttosto perché dei giudici appaiano impazziti per cui bisogna entrare nel dettaglio delle cose per cui siamo qua anche se avete bisogno se avete qualche curiosità insomma sia sul libro sia sulla storia di Francesca sia sulle tematiche del codice rosso per rispondere alle vostre domande e io non mi alzo se non ricevo nemmeno una domanda quindi vedete voi ecco scusi così andiamo a casa prima mi ha detto che il papà poteva fare l'esposto per la figlia come mai la mamma non era stata ascoltata che l'ha fatto per sua figlia nel caso grazie grazie della domanda era proprio la differenza che cercavo di spiegare prima lei adesso la mette ancora più in evidenza la mamma voleva denunciare il delito di stalking per la figlia il delito di stalking è perseguibile a querela significa che la vittima deve fare la denuncia personalmente invece il caso di quel papà che ha deciso di denunciare lui per la figlia quello è un caso di maltrattamenti in famiglia e quindi in quel caso il legislatore ha già previsto che chiunque ne abbia notizia può denunciare non serve la querela della vittima quindi grazie perché così ha creato proprio un distinguo netto in poche parole era l'aggressore che deve vivere con lei no no prenda il microfono così la sentono meglio dietro una considerazione una piccola riflessione nel senso che questa sera è venuta fuori tanta legislazione su un terreno delicatissimo tra l'altro che attiene a reati gravi e che segnalo da non molto sono considerati reati gravi è solo per fare un riferimento la legge contro la violenza sessuale considerata reato contro la persona è del 1996 quindi non cento anni fa e il delitto d'onore è stato abrogato nel 1981 cito quelli che mi sono venuti in mente ce ne sarebbero tanti da citare questo per dire che cosa che io personalmente penso che la legislazione sia importantissima ci ho anche lavorato per quello che ho potuto fare ci ho una certa età quindi ci ho lavorato no per migliorare la legislazione ma penso che il problema principale sia un problema di cultura e di educazione sentimentale e questo attiene alla scuola certamente ma attiene a tutti noi agli operatori della giustizia ma agli operatori dell'informazione perché non si può sentire quando viene una donna uccisa che viene condannato l'assassino e dire è stato un eccesso di passione perché adesso le donne non sono deboli le donne sono soggetti forti e quindi se decidono non decidono di denunciare di fare la querela bisogna agire sulle ragioni che impediscono questo io per l'esperienza che ho non è o c'è il terrore ma in effetti se c'è il terrore poi lei stesso ha detto il giorno dopo che la madre è andata e è stata uccisa il terrore è una buona ragione per non denunciare ma spesso ci sono ragioni diverse che adesso sarebbe lungo da parte mia spiegare però bisogna agire su quelle e quindi agire sul fatto di prevenire cioè lei faceva l'esempio io ti posso dare uno schiaffo per strada e non mi succede niente ecco io vorrei lavorare perché lei non mi possa dare uno schiaffo per casa perché lei non deve dare uno schiaffo a una donna la donna va rispettata ma siccome che la cultura viene da lontano ancora non è così io non sto parlando adesso qua di parità parlo proprio di rispetto e quindi di educazione sentimentale che noi lo dobbiamo ai nostri giovani perché anche tra i giovani succedono fatti di violenza e questo attiene della legge non sanno niente non sanno neanche da dove veniamo è anche compito nostro piegaglio quindi io la butterei tanto da questo punto di vista spesso la legislazione a volte è più avanti della società ma non sempre spesso invece è la società che è più avanti della legislazione molto c'è ancora da fare certamente sulla legge che c'è e l'ultimissima cosa sulla procedibilità o querela la questione è molto delicata potrei anch'io parlare dieci minuti non per sostenere la procedibilità d'ufficio segnalo però che la procedibilità d'ufficio è prevista sia nella violenza sessuale che nelle altre tipologie di reato per casi per esempio per i minorenni e se le cose avvengono in casa o comunque dai parenti quindi è già prevista una caratterizzazione però grazie posso replicare la ringrazio intanto lei giustamente diceva la procedibilità è prevista ad esempio in caso i minorenni perché i minorenni tutti i reati commessi contro i minorenni sono perseguiti d'ufficio perché proprio perché non hanno la possibilità di denunciare personalmente si ritengono persone deboli e quindi prive di tutela e giustamente il legislatore ne fa poi una questione di tutela a prescindere dalla natura del reato per quanto riguarda la sua il suo sollecito dal punto di vista della prevenzione lei ha ragione cioè ognuno questo dipende anche un po' da un fattore culturale fattore sociale di quanto uno riesca a fare nella propria casa la violenza che noi vediamo per strada non è che arriva con una nevicata d'estate arriva perché è stata in qualche modo tollerata o è stata mal gestita o è stata cresciuta proprio in grembo alla nostra famiglia ognuno cerca di fare del meglio cerca di educare i propri figli quello che possiamo fare noi e parlo io da genitore si cerca di di dare non il buon esempio ma di fare una vita normale senza violenza senza confronti accesi i miei figli uno ha 13 anni e l'altro ne ha 10 la parolaccia più parolaccia è socchino le sorride e mi fa piacere è stato un percorso lunghissimo da quando sono nati qua c'è mia moglie delle volte ti verrebbe da dire nelle nostre conversazioni che parliamo di tis ma questo ma quel socchino là e lo ti guarda ma perché ti arrabbi per dire un socchino oggi hanno capito che quel socchino sono cresciuti quindi con questo socchino che rappresenta la parolaccia più parolaccia però vi assicuro che ovviamente siamo felicissimi di questo perché raccogliamo i frutti a distanza di anni loro quando dicono non so papà sai Emanuele però ha detto quella parola che comincia con la S e dico però non possiamo mica eh però non va detta sì lo so però noi possiamo impedire all'altro di dire le cose noi dobbiamo fare quello che riusciamo a fare noi è un percorso che di certo non va insegnato alle famiglie non si può dire alla famiglia tu ti devi comportare così è un po' se mi permesso anche un sentire un po' intimo naturale le famiglie sono diverse e cresceremo un po' diversi tutti quanti se io dovessi fare invece tu hai fatto una domanda prima a Tiziana cosa chiederesti tu al tuo sindaco io al mio sindaco chiederei più informazione nelle scuole lavorerei con il ministero di istruzione per dedicare un'ora al mese almeno un'ora al mese di una figura esterna che parli ai giovani che li educhi e quindi che dia dei segnali nelle classi ha rispetto poi ovviamente rispetto anche all'età che hanno però ci sono dei liceali ci sono dei ragazzi superiori che possono fare di tutto ormai oggi possono compiere qualsiasi reato hanno le possibilità per farlo con i telefonini poi io ho fatto a Bassano del Grappa in una scuola superiore erano tutti 18 19 anni quindi figuriamoci erano mai più alti di me tutti con telefonino e gli ho chiesto oh ma qualcuno mi spiega la differenza tra l'iPhone o X o cos'è X dall'iPhone 10 uno costa di più l'altro costa di meno e ho cominciato a parlare dei telefonini fino a poi arrivare al vero nucleo del problema che quel telefonino è un'arma oggi non ci siamo addentrati molto e abbiamo fatto bene perché non si può neanche tediale molto la gente però il codice rosso ad esempio questo intervento del legislatore parla e a mio avviso questa è una cosa positiva non tutto apprezziamo negli interventi che fa il legislatore ma per me questa è una cosa molto positiva che ha tipicizzato si dice quindi ha reso una forma specifica una condotta come un reato autonomo e cioè quella della diffusione di immagini intime senza il consenso naturalmente della persona avendo diritto e questo perché lo ha fatto oggi il legislatore perché sa che ormai oggi succede e non lo fa un cinquantenne sì ok diciamo che un cinquantenne magari una ragione in più sì se lo pone però soprattutto per quei giovani che hanno questo strumento in mano e che non sanno che un telefonino un smartphone soprattutto iPhone che funziona benissimo ti lancia di quelle immagini in una frazione di secondo il mio lavoro grazie al telefono grazie al smartphone è diventato molto più veloce io non ho più pausa ovviamente perché se mi viene a mandare la mail a rispondere è velocissimo le immagini arrivano quando dicono avvocato le mandano le immagini via mail non per carità mandamelo via whatsapp e mi arriva un attimo quelle immagini ovviamente sono immagini che possono essere usate come strumento anche da persone che sono poco consapevoli e quindi oggi il legislatore dice ok ragazzi va bene fino a ieri poteva essere richiamata diffamazione poteva essere chiamata molestia oggi se fai quella cosa specifica con il tuo bellissimo smartphone sappi che è un reato gravissimo e bene affatto quindi in questo caso se vogliamo il legislatore ha osservato la collettività e ha detto ok la collettività è emancipata la tecnologia è entrata nella vita di tutti noi ed è giusto che io adesso ponga un po' dei limiti perché altrimenti qua si fa un po' di tutto è un rapporto noi stato delle volte lo stato ci anticipa delle volte lo anticipiamo noi ma quello che conta di più a livello di prevenzione è proprio la nostra famiglia e su questo a casa di altri non si può entrare per insegnare educazione ma nei luoghi istituzionali nelle scuole sì lì si può fare e quindi anche dei giovani possono coltivare una consapevolezza ulteriore rispetto a quello che ricevono in casa attraverso la scuola e qui la scuola potrebbe in qualche modo anche sensibilizzarli e dire vai effettivamente quella cosa che ha fatto non so mio padre in comprensione di mio fratello gli ha dato troppi schiafi mi viene da dire così banalmente probabilmente non sarebbe poi una cosa così giusta e quindi forse più educazione e quindi quello che possiamo fare non possiamo entrare a casa della gente però almeno le scuole sindaco possiamo entrare quindi se io potessi un'ora al mese chiamiamola educazione civica non so diamoci un nome che volete ma bisogna trovare il modo per entrare e sensibilizzare le nuove generazioni perché poi loro sono le generazioni in cui poi faremo i conti posso posso permettermi però qua spezzo una lancia in favore della nostra scuola poverina che è sempre bistrattata e lo facciamo lo facciamo iniziamo già alle elementari perché stiamo tentando di abbassare sempre di più quindi non dico dalla materna ma già dalla scuola elementare cominciamo a fare incontri di formazioni di questo tipo è previsto la rintroduzione della civiltà e costituzione no civiltà costituzione cittadinanza cittadinanza e costituzione già dalle medie e vi assicuro che con grande difficoltà ma con grande tenacia cerchiamo di fare di tutto di più per dare formazione in questo senso perché per quanto scalcagnato sia la nostra scuola però c'è ancora un gruppo docenti che crede veramente nella formazione e che quindi lavora su queste tematiche non per niente già a livello appunto delle medie abbiamo sempre attenzione per le varie giornate chiamiamolo così quindi piuttosto il 25 novembre piuttosto dell'8 marzo piuttosto del 27 gennaio quindi il tentativo di di mettere i ragazzi di fronte a queste realtà c'è sempre io mi permetto ogni tanto anche di ribaltare la situazione nel senso che la nostra problematica qua non me ne voglia nessuno è il rapporto con la famiglia genitori che spesso non ci sono o che delegano a noi anche quella funzione che non dovremmo avere quindi è chiaro che noi possiamo parlare di violenza io parlare di violenza in generale poi nello specifico stasera violenza contro la donna ma se dall'altra parte non trovo lo stesso rispetto capite anche voi che c'è qualcosa che puoi baccozzare che non aggiunge gli obiettivi che ci siamo prefissati purtroppo c'è qualche altra domanda ce ne sono due la ragazza tre no voi due dove stai la ragazza con la frangetta io volevo chiedere una cosa ricordante proprio il dispositivo dell'articolo sullo stalking non è troppo gravoso per la vittima quello che c'è scritto nel senso a livello proprio probatorio provare uno stato d'animo intanto e poi se da un lato appunto si cerca di giustamente incentivare a denunciare l'aggressore lo stalker o comunque il soggetto coinvolto e non è troppo gravoso anche il fatto di per ottenere una denuncia o comunque un procedimento che porti poi l'aggressore in prigione piuttosto che ad essere allontanato dover cambiare proprio vita o comunque abitudini di vita il soggetto coinvolto cioè la vittima perché un conto è cambiare il numero di telefono è ok è anche abbastanza veloce però cambiare abitudini di vita per una persona che tra l'altro è già debole di suo per il fatto di trovarsi in quella situazione dovere anche cambiare vita è un po' troppo gravoso forse prevedere tutto questo da parte di una norma si concordo con lei nel senso che qua la norma di stalking ha proprio questa peculiarità che la rende di difficile applicazione e cioè unisce l'effetto materiale con l'effetto passivo quindi la norma dice voglio che per configurarla voglio che tu mi dimostri che lui ha commesso o lei ha commesso quella cosa ma mi dimostri anche che poi c'è stato un effetto passivo questo proprio questo è il vero problema di questa norma quindi tanto è vero che adesso si entra ancora di più nel tecnico e non è previsto neanche il tentativo per chi comprende la materia il tentativo del reato in materia di stalking diventa un problema perché non è applicabile e quindi perché non è applicabile perché di fatto è un reato di evento e quindi dovrebbe essere applicabile in astratto ma non lo applica nessuno perché è proprio difficile dimostrare che io ho fatto di tutto per stalkerizzarti ma non ci sono riuscito perché? perché l'iniziatore dice che anche l'effetto passivo rientra in elemento materiale del reato è una cosa molto complessa però concordo con lei la norma va cambiata appunto ultima domanda faccio io non solo una domanda ma anche una considerazione allora si è parlato prima che la violenza appunto è un fenomeno culturale soprattutto nei riguardi appunto delle donne io vorrei è chiaro che poi naturalmente ci sono forme di violenza molto anche diverse non è che solo le donne vengono colpite da violenza però soprattutto loro soprattutto nella nostra società ecco per dire io vorrei precisare un discorso in questo discorso una parola che non è stata detta e cioè la parola maschilismo perché tutto sommato noi viviamo in una società soprattutto quella italiana ancora in cui c'è un forte maschilismo veramente ed è un maschilismo che non è solo nella gente fra le persone comuni ma si trova benissimo anche fra persone molto acculturate e che però per loro le donne sono sempre un gradino più in basso e questo lo sappiamo bene tutte quante ecco io mi ricordo e questo incide quindi anche poi nell'amministrare appunto la giustizia io mi ricordo ancora di un fatto che ho letto e che mi ha colpito moltissimo ancora tempo fa veramente di una donna che stava in Sardegna che era nei campi e stava lavorando quella sua stava lavorando con la zappa in mano e c'era uno che è un cacciatore che si è avvicinato e aveva anche il fucile tra le spalle e natura voleva aggredirla insomma ma lei aveva la zappa in mano ed è riuscita a difendersi con la zappa con la zappa ha colpito il cacciatore che è morto in totalità dunque alla fine del processo la sentenza è stata eccesso di difesa allora non so voglio dire anche a questo giudice come mi ha colpito secondo me è stata una grave ingiustizia perché questa non poteva mica pensare in quel momento lì aspetta adesso gli do un colpo della zappa su un ginocchio lei ha cercato di difendersi poteva difendersi si è difesa ma la difesa non le è stata concessa non le è stato dato il diritto di difendersi questo è stato il punto ecco questa cultura è ancora molto diffusa quante volte una ragazza anche io sono un insegnante come lei e ho insegnato come Tiziana e le assicuro che una volta a scuola ed erano ragazze quelle con cui stavamo discutendo è successo un punto fatto di violenza su una ragazza uno dei commenti che queste ragazze hanno fatto è stata e se le è cercate quindi voglio dire ancora abbiamo una società che purtroppo non ha ben chiaro quali sono i diritti e i doveri delle persone e soprattutto il valore anche della persona femminile grazie io ringrazio tutti voi per aver partecipato questa sera è stata una bella serata una serata tecnica ma anche di riflessione doveva essere una serata forse più letteraria insomma poi l'abbiamo trasformata in una serata invece di numeri di cifre di ragionamenti per cui se consentite a me veniva in mente sentendo parlare l'insegnante sentendo parlare qualche altro di riflessione di necessità di essere attraverso la scuola più come dire di cercare di far crescere i giovani di farli maturare di far crescere una sensibilità veniva in mente a posto di letteratura una vecchia poesia di Carducci che mi piace molto e mi piace molto per come finisce e volevo salutarvi così la poesia è davanti sanguido quella con i cipressi chi ha bolgari chi ha alti eschietti eccetera eccetera che racconta l'immagine del poeta di questo treno che corre come simbolo del progresso in mezzo a questo viare di cipressi che ricorda lui da bambino che invece dice andava a giocare e non c'era ancora il treno e questo treno fa un gran rumore uno dei primi treni dell'Italia Unita e quindi fa una gran confusione ma vicino a questo treno dice il poeta lì vicino ai binari c'è un asin bigio un asino grigio che rosicchiando un cardo rosso e turchino non si scomodò di tutto quel chiasso e non degnò ad un guardo e a brucare serio e lento seguitò c'è un asino che sta fermo nonostante tutto il casino del treno e continua a mangiare il suo cardo ecco di fronte a quello che ci accade tutti i giorni di fronte a serate come questa di fronte ai drammi che raccontano i giornali non siamo non dobbiamo essere come l'asin bigio non dobbiamo chiuderci nel nostro uscio e dire ma tanto a me non succede ma tanto se l'è andata a cercare ma tanto non sono fatti miei dobbiamo essere partecipi della società in cui viviamo dobbiamo essere protagonisti anche e lo siamo attraverso credo romanzi come quello di Agron l'impegno di Tiziana in comune e l'impegno vostro a partecipare a serata come questa grazie 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 Grazie.